Musica Mercoledì 15 maggio alle ore 17 presso la sede del Comitato di Quartiere San Berardo di Teramo si è svolto un incontro tra i cittadini rappresentati dal coordinamento dei Comitati di Quartiere, i commercianti e le istituzioni. Erano presenti il consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio, il presidente della provincia Diego Di Buonaventura, i consiglieri comunali di Teramo Giovanni Luzzi e Osvaldo Di Teodoro, il dirigente della Camera di Commercio Salvatore Florimbi e il direttore Confindustria Teramo Nicola Di Giovanna Antonio. Al centro del dibattito l'economia teramana. Secondo la relazione del dottor Florimbi della Camera di Commercio, i dati che analizzano un periodo che va dal 2009 al 2018 descrivono una decrescita economica della città di Teramo. I settori che soffrono più questa crisi sono l'edilizia e il commercio, di conseguenza si registra una situazione occupazionale sofferente. La categoria più colpita sono i giovani che tendenzialmente abbandonano la città di origine per costruire il proprio futuro altrove. Si apre così uno scenario dominato dalla crisi. Il reddito pro capite della città di Teramo nel 2018 è stato più basso di quello della media nazionale e così anche per l'età media della popolazione, tra gli interventi quelli del consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio e il consigliere comunale Giovanni Luzzi, che nell'esprimere un sentimento di solidarietà con la cittadinanza hanno ribadito il loro impegno per migliorare la situazione odierna. L'occasione offre l'opportunità di affrontare il tema della sanità e delle criticità espresse in questi anni, dell'impegno preso per la costruzione del nuovo ospedale di Teramo, della volontà di arginare il problema dello spopolamento dei comuni montani, situazione che toglie l'infa alla città di Teramo, della volontà di valorizzare il turismo e migliorare la macchina burocratica, che finora è stata probabilmente la principale causa di inefficienze e perdite economiche. A ribadire il concetto, il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, un capoluogo di provincia forte fa una provincia forte. Migliorare e mantenere vivo il rapporto con i cittadini, ascoltare le istanze della popolazione al fine di costruire una sempre più proficua partecipazione democratica e restituire un'identità alla città di Teramo, che ora più che mai necessita di una compagine amministrativa forte ed unita per soddisfare gli interessi della collettività. Independent TV, il tuo canale di informazione.